Il Tribunale del Riesame di Catania ha respinto la richiesta di scarcerazione o di arresti domiciliari per Giuseppe Panascia. L'uomo è accusato di aver ucciso la moglie, Maria Zarba. Il Comitato Pro Tribunale di Modica si è riunito oggi in vista dell'Assemblea Nazionale per la Giustizia di Prossimità. L'appuntamento è in programma a Catania il 16 novembre. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione al Consiglio Comunale di Ragusa per denunciare infiltrazioni di acqua piovane in alcuni reparti dell'ospedale. Il Giovanni Paolo II è stato inaugurato il 23 ottobre scorso. Una mostra particolare oggi e domani nel Leatro di Palazzo San Domenico, in esposizione ai lavori realizzati da diverse mamme modicane dell'associazione Contea Creativa. I Rosso Blumo di Cani impegnati sul campo della Riccardo Garrone di Siracusa cercano una vittoria per interrompere la lunga serie di sconfitte subite in trasferta. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori. Il Tribunale del riesame di Catania ha deciso che Giuseppe Panascia, il pensionato ragusano accusato di aver ucciso la moglie, deve rimanere in carcere. Rigettata dunque la richiesta di scarcerazione avanzata dall'avvocato difensore dell'uomo che continua a professarsi innocente. Il servizio. Resta in carcere Giuseppe Panascia, il 74enne ragusano accusato di avere ucciso la moglie Maria Zarba, 66 anni, nella sua abitazione di via Giambattista Odierna lo scorso 11 di ottobre. Il Tribunale del riesame di Catania oggi ha reso nota la decisione sulla richiesta di scarcerazione o di arresti domiciliari avanzata dal difensore dell'uomo, l'avvocato Valentino Coria, anche in considerazione dell'età dell'indagato. Ma il Tribunale Etneo ha ritenuto che non ci sono i presupposti per una restrizione meno severa. Panascia dunque resta rinchiuso nel carcere di contrada pendente a Ragusa. Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno indotto i giudici del riesame a confermare la carcerazione di Panascia, il quale da parte sua continua a confermarsi innocente. Sul fronte delle indagini si attendono ancora i riscontri relativi a nuovi sopralluoghi nelle abitazioni di Ragusa e Pedalino dell'ex coppia, mentre non è stata ancora trovata l'arma del delitto, un oggetto contundente con il quale l'omicida avrebbe fracassato il cranio della donna. Giuseppe Panascia è accusato di omicidio volontario aggravato dal fatto che i due coniugi fossero legalmente separati. Potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro dei 30 tribunali italiani soppressi dalla riforma della geografia giudiziaria l'Assemblea dei Comitati per la Giustizia di Prossimità che è in programma a Catania il 16 ottobre prossimo. Oggi si è riunito il Comitato Pro Tribunale di Modica per mettere a punto la piattaforma di rivendicazioni in attesa appunto della riunione del 16 novembre. Ascoltiamo questo servizio. Il Comitato Pro Tribunale di Modica affila le armi e predispone la piattaforma di rivendicazioni in vista dell'Assemblea del Coordinamento Nazionale dei Comitati per la Giustizia di Prossimità in programma a Catania il 16 novembre. Si tratta di un appuntamento importante al quale potrebbe partecipare anche il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede contro parte delle richieste che i rappresentanti istituzionali dei 30 tribunali italiani soppressi hanno più volte avanzato al di Castero. Richieste che sono supportate da quanto previsto nel contratto del Governo Lega 5 Stelle vale a dire la riapertura dei cosiddetti tribunali minori, un punto del programma che con il passare del tempo sembrerebbe essere stato accantonato o almeno ridimensionato. Siamo in presenza di un Ministro il quale a fronte di un impegno che le forze di maggioranza che lo sostengono e che il Governo attuale ha ribadito di riaprire tutti i tribunali che sono stati soppressi per assicurare ai territori giustizia di prossimità torna indietro sostanzialmente rispetto agli impegni formali che sono stati assunti, che sono stati inseriti in un contratto di Governo prima e in un impegno di Governo poi per regalare, secondo lui, un migliaio di cosiddetti tribunalini che non avrebbero nessunissimo significato. Sarebbero pannicelli caldi che non darebbero alcun tipo di risposta, non potrebbero dare alcun tipo di risposta alle emergenze che sono sul territorio. Parliamo adesso di sanità. Quando il nuovo ospedale di Ragusa potrà entrare in funzione e quanto le infiltrazioni di acqua piovana incideranno sulla sua operatività? A chiederlo è il Movimento 5 Stelle di Ragusa che ha presentato una interrogazione in Consiglio Comunale. Il Movimento 5 Stelle vuole vederci chiaro sulle notizie riguardanti infiltrazioni di acqua piovana all'ospedale Giovanni Paolo II a causa del maltempo del 15 ottobre scorso a Ragusa. Dopo che la direzione dell'Asp ha adottato una delibera, la numero 2016 del 23 ottobre, per urgenti lavori di risanamento del servizio di rianimazione, ripristino e impermeabilizzazione del terrazzo del blocco operatorio del nuovo ospedale, il capogruppo del Movimento 5 Stelle Zahara Federico chiede di sapere se queste comunicazioni sono state regolarmente trasmesse al Comune e se l'amministrazione municipale non ritenga opportuno informare della delicata questione il Consiglio Comunale e i cittadini. A quanto emerge dalla delibera, chiarisce la Federico, il problema delle infiltrazioni d'acqua avrebbe rischiato di compromettere anche il funzionamento di alcune apparecchiature già installate. Naturalmente è l'azienda sanitaria provinciale che deve rivalersi su chi non ha eseguito i lavori a regola d'arte. La cittadinanza però è interessata a conoscere se e quando il nuovo ospedale potrà entrare regolarmente in funzione e quanto queste nuove difficoltà incideranno sulla piena operatività dello stesso. E sempre a proposito di sanità, vale la pena ricordare ai responsabili dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa una vicenda che si trecino ormai da anni e che riguarda l'ospedale maggiore di Modica. Stiamo parlando del parcheggio esterno sottostante la nuova ala, uno spazio enorme, polveroso in estate, fangoso in inverno, inutilizzato. Ci sono state molte promesse relative al suo completamento, cosa che è successa anche per la costruzione esistente nell'area, una costruzione che è un vero e proprio rudere. Inutili fino a questo momento le sollecitazioni all'Asp per i lavori di sistemazione anche in ossequio al decoro di un luogo come l'ospedale maggiore che serve un'utenza di oltre 100 mila persone. Approvvigionamento idrico a Modica. L'argomento torna ad attualità per gli interventi del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d'Italia. Sul tappeto in particolare i costi che il Comune affronta per l'affitto di pozzi privati e l'eventuale affidamento ad una ditta privata del servizio di lettura dei contatori idrici. Vediamo il servizio. Continua a tenere branco a Modica la vicenda dei pozzi d'acqua affittati dal Comune. Da registrare una interrogazione del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Marcello Medica e una nota di Fratelli d'Italia. Il consigliere 5 Stelle in particolare chiede di sapere il numero di fonti di acqua ad uso potabile da cui si approvvigiona il Comune di Modica per soddisfare i fabbisogni del territorio comunale. Quali fonti sono di proprietà comunale, quali di enti e quali di privati? Quale rapporto l'ente comune intrattiene con ciascuno di tali enti o privati? Quanti metri cubi sono stati forniti da ciascun impianto di approvvigionamento nel 2017? Quanti metri cubi sono stati forniti da ciascun impianto di approvvigionamento dall'inizio di quest'anno, i criteri che hanno determinato nella pattuizione con enti o privati il costo di prelievo al metro cubo di acqua o altra forma di compenso per il fornitore, sia durante i mandati di questa amministrazione sia di quelle precedenti. Il coordinamento modicano di Fratelli d'Italia, attraverso una nota del portavoce Emanuele Cavallo, chiede invece chiarimenti su un eventuale affidamento ad una ditta esterna del servizio di lettura dei contatori idrici, curato fino ad ora da personale della Servizi per Modica. Fratelli d'Italia inoltre ritiene eccessivo il costo per l'affitto di alcuni pozzi privati e per la realizzazione della relativa condotta al loro servizio. Sarebbe certamente più conveniente secondo Fratelli d'Italia che il Comune provvedesse alla realizzazione di propri pozzi. Lavori di messa in sicurezza per sette scuole ragusane. Sono stati aggiudicati i lavori di messa in sicurezza dei solai dell'Istituto Cesare Battisti per un importo di 94 mila euro. Il prossimo 7 novembre saranno aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza delle scuole materne Walt Disney e Quasimodo e della scuola materna Marina di Ragusa. La sistemazione dei prospetti della scuola di Odoro Siculo, il rifacimento dei servizi igienici della ECCEOMO e altri piccoli interventi. L'importo del progetto è di 200 mila euro. È stato inoltre approvato e individuato il sistema di aggiudicazione per la realizzazione di una tenso struttura polifunzionale al servizio della scuola elementare Palazzello. L'importo del progetto è di 270 mila euro. Al Comune di Ragusa sono stati nominati due nuovi dirigenti a tempo determinato e un collaboratore esterno. Si tratta del dirigente dei servizi finanziari e contabili, del dirigente amministrativo tributario e di un collaboratore addetto alla cura dei rapporti con gli organi istituzionali e politici. A ricoprire il ruolo di dirigente dei servizi finanziari e contabili per tre anni sarà Giuseppe Sulcenti, esperto in materie economico-finanziarie, con precedenti incarichi dirigenziali in comuni siciliani. Dirigente del settore tributi, sempre per la durata di tre anni, sarà invece Francesco Scrofani, che ha già ricoperto tale ruolo nello stesso settore. Collaboratore esterno alle dirette dipendenze del Sindaco per un anno, è stato nominato Nunzio Basile. Una mostra particolare, quella allestita all'interno dell'atrio comunale di Palazzo San Domenico a Modica, in esposizione i lavori realizzati da tante mamme modicane dell'Associazione Contea Creativa. Passione per l'artigianato, il fai da te e soprattutto tanta creatività. È questo che accomuna diverse mamme modicane nell'Associazione Contea Creativa, che proprio domani festeggia il primo anno di presenza sul territorio. Oggi e domani in mostra, all'interno dell'atrio comunale di Palazzo San Domenico di Modica, tanti lavori insoliti, tutti realizzati artigianalmente da mamme creative e non solo. Composizioni con il sapone, bavaglini, borse e anche tegole diventate vere e proprie opere d'arte che ritraggono scorci di Modica e orecchini da forme e materiali veramente particolari. Sono solo alcuni dei prodotti esposti da Contea Creativa. Una mostra è un mercatino che tornerà all'interno dell'atrio comunale di Modica ogni prima e terza settimana del mese. Ci siamo riunite per la prima volta un gruppo di mamme che non eravamo niente, neppure un'associazione, semplicemente artigiane, creative, hobbyste, che avevano la capacità di fare tante cosette artigianali, quindi oggetti fatti a mano, che però non avevano avuto mai l'opportunità di uscire fuori dalle proprie case per esporre queste creazioni. L'opportunità mancava per tanti motivi, per timidezza, perché non c'era nessuno che le invoiasse ad uscire e quindi ad esporre. Fin quando poi, con le mamme di Modica, abbiamo deciso di creare questo evento, il primo mercatino delle mamme di Modica. Si chiamava così. Da quel giorno siamo scesi in piazza Gesù a Modica Alta, all'incirca 30 mamme di Modica. Eravamo solo mamme. Abbiamo esposto le nostre creazioni. La città ha risposto benissimo. Addirittura anche il sindaco, come primo cittadino, ci fece una proposta molto allettante, ovvero perché non vi riunite in associazione? Le mamme sono impazzite. Si dai facciamolo, è una bellissima opportunità, Modica manca. E allora io mi sono, tra virgolette, sacrificata nel dire da creativa, vabbè, organizzato questa, che cosa può essere mai? Organizziamo un'associazione. E invece non è stata proprio una passeggiata, un impegno bellissimo che ha richiesto tantissimo coraggio, anche tantissima capacità di coinvolgere le persone. Perché 30 c'eravamo già. E in effetti siamo scese in campo. È nata un'associazione, per scegliere il nome non vi dico. Comunque è nata la Contea Creativa, perché noi siamo le creative di Modica, le creative della Contea. È da un anno che operiamo e non soltanto le mamme si sono volute aggregare, ma anche i papà, anche i maschietti, perché ci sono dei brevissimi artigiani. Oggi ce n'è qualcuno presente, non sono tutti, ma oggi uno è venuto. Anche loro hanno la loro capacità, la loro creatività, la loro vena artistica e quindi per uscire di casa hanno deciso di aggregarsi, fare aggregazione sociale. Sentaci perciò i tuoi lavori, sono molti veramente particolari. Innanzitutto quegli orecchini, già non si capisce neanche il materiale di che cosa sono fatti. Sì, infatti, molti mi dicono che sono o delle alghe o delle spugne, ma non è così, ma bensì è la fibra naturale che si trova dentro il figo d'India, dai tronchi dismessi. Quindi è assolutamente naturale e a me piace, come si suol dire, magari non si butta via nulla dal figo d'India, quindi dal frutto e anche appunto... Come ti è venuta l'idea di realizzarci degli orecchini? Allora, io l'avevo vista tantissimo tempo fa e mi è venuta adesso di riproporla io con delle mie creazioni più o meno definite. Adesso sto cercando di proporre delle nuove creazioni colorandola magari, vedere un po' cosa ci esce fuori. Insomma, sta piacendo tantissimo proprio perché è una cosa molto molto particolare. A causa del maltempo, previsto anche nelle prossime ore, è stato rinviato il quinto slalom della città Iblea, previsto domani sulla statale 115 Comiso Ragusa. La scelta è stata assunta anche dopo le segnalazioni ricevute dagli stessi piloti. La nuova data sarà resa nota nei prossimi giorni. La manifestazione sarà sempre patrocinata dal comune di Comiso ad organizzare l'ACI Sport e il CONI. L'evento per la provincia di Ragusa è curato da Mike Cannizzaro. Notizia di calcio adesso. Nel campionato di promozione il Modica, impegnato domani a Siracusa sul campo del Riccardo Garrone, è chiamato ad invertire la tendenza negativa che lo ha visto sempre sconfitto in trasferta. Tifosi delusi dai risultati, anche se le prestazioni dei rosso blu sono state quasi sempre più che dignitose. Il servizio. Il Modica ha completato ieri pomeriggio la preparazione alla gara di domani sul campo del Riccardo Garrone di Siracusa. Partita delicata per entrambe le formazioni che navigano nelle acque meno tranquille della classifica del girone di I del campionato di promozione. I padroni di casa, infatti, con solo 4 punti, si ritrovano in penultima posizione e in piena zona play-out, mentre i rosso blu della Contea, con 7 punti, sono al ridosso della zona rossa della classifica. Tecnico e giocatori rosso blu che in settimana hanno incassato la fiducia della dirigenza, vogliono uscire da questo momento difficile della stagione che li ha visti fino ad ora, sempre sconfitti in trasferta. Si ha l'impressione che il match di domani rappresenti una sorta di ultima spiaggia per invertire un percorso che non è certo quello ipotizzato ad inizio di campionato e nel quale hanno influito la mancanza di un attaccante in grado di sfruttare le occasioni da gol e nelle ultime settimane anche l'assenza per infortunio di un elemento come gatto, in grado di dare respiro alla manovra e di illuminare il centrocampo. La sfida del Riccardo Garrone sarà arbitrata dal catanese Tommaso Alberto Vazzano, che si avarrà della collaborazione dell'agrigentino Gaetano Florio e dal collega di sezione Salvatore Debole. Parliamo di basket. Le cestiste della Passalacqua Ragusa saranno impegnate domani in casa al Palaminardi contro la Gesam Gas Lucca. Le biancoverdi allenate dal coach Gianni Recupido dovranno confermare il trend positivo e conquistare punti preziosi per la rincorsa alla prima in classifica del campionato femminile di Serie A1. Attualmente il quintetto ragusano si attesta in quinta posizione a due lunghezze da San Martino e Napoli e a quattro lunghezze dalla coppia al vertice composta da Schio e Venezia. Quattro atleti della Ispica Running parteciperanno domani alla Maratona di New York. Sono Carmelo Padova, Vincenzo Spatola, Vincenzo Asta e Sergio Lorefice e saranno al nastro di partenza dell'evento e vivranno la prima esperienza della Maratona New Yorkese dopo aver corso in altre città europee. Gli atleti della Ispica Running hanno infatti preso parte alle Maratone di Vienna, Roma, Firenze e Malta. L'Italia sarà presente a New York con 3177 podisti, seconda nazione più rappresentata, seconda appunto alle spalle dei padroni di casa statunitensi. Bene, abbiamo concluso, grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni.